Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. 29.950 spettatori. Con la conclusione, il sacco allo spallo del portiere. Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Che passaggio Fabio, ci sono giocatori che vedono le cose prima che accadano. E chi è che non vorrebbe avergli scuola? I compagni devono solo farsi trovare pronto. Vinicius e giugno! E il pallone finisce in rete. Sta iniziando a diventare doloroso da vedere.